Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport serie 5, questo video ieri sera Sestri Levante contro Ternana, vittoria 1-0 per le fere, un successo molto importante in una giornata difficile nella quale è stata finalmente comunicata l'entità della penalizzazione, il previsto meno 2, quindi una giornata nella quale vincere era ancora più importante, vittoria è arrivata, io credo ragazzi ho visto quest'anno già quasi 200 partite tra serie A, serie B, serie C, calcio estero, tra passione, tra canale, Sestri Levante e Ternana vince la palma di più brutta partita dell'anno, una serie di elementi compongono questo mio giudizio a partire dalle incredibili riprese, io credo di non avere mai visto una partita ripresa così male da un punto di vista televisivo con le immagini che arrivavano quasi come se la telecamera fosse posta a liberati di terni e inquadrasse le azioni di gioco allucinante, penso con il telefonino si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore, i replay erano più belli e perché non si è fatto vedere tutta la partita direttamente con l'immagine della telecamera del replay che era un po' più da vicino, almeno per riconoscere i giocatori un po' meglio e per cercare di capire un po' meglio quello che stava accadendo, però poi al di là della bruttezza delle immagini da una parte grazie perché ha permesso di vedere un po' meno lo scempio tecnico che si è visto lungo tutta la partita, ora posso capire che l'aspetto emotivo sicuramente può avere giocato un ruolo importante in questa partita soprattutto per la Ternana, la Sessi Levante ha giocato una partita onesta, ci ha provato contro una squadra molto più forte, ha costruito troppo poco in avanti ma si è difesa piuttosto bene, la Ternana incredibilmente si è schierata con una difesa a 3 quindi contro il nulla perché di fatto davanti la Sessi Levante non aveva nessun giocatore non era minimamente in grado di creare pericoli e soltanto dopo 84 minuti recupero compreso finalmente si è avuto l'idea di cambiare, togliere uno dei tre centrali e cambiare con un assetto più offensivo. Ci sono state finalmente le due punte, Cianci Donnarumma qualcosa per il quale avevo sperato che potesse prima o poi accadere però se non ricevono neanche un pallone è evidente che non servono assolutamente a nulla, ne abbiamo parlato già tantissime volte della mia vetusta probabilmente idea di calcio, di sfruttare le fasce, le sovrapposizioni, di mettere delle palle al centro, di cercare delle sponde tra gli attaccanti peraltro forti anche da un punto di vista fisico, Donnarumma peraltro l'ho visto un po' in difficoltà, probabilmente il fatto di non ricevere neanche un pallone lo ha messo parecchio, un po' in letargo, meglio Cianci da questo punto di vista, poi però l'incredibile è quello che lascia sperare prima o poi che la Terrana possa sbloccarsi anche da un punto di vista del gioco, io continuo a pensare che la Terrana sia una squadra forte, ma molto forte che viene tenuta incredibilmente bloccata e che ottene i risultati in maniera molto più faticosa anche di quelli che potrebbe ottenere, poi ripeto è di la classifica a parlare, c'è questa serie positiva di vittorie, andare a criticare troppo, poi dopo si passa per voler essere troppo puntigliosi, però rimane che alla fine è serie C, partita difficile, campo difficile, sintetico, 18.30 in settimana, tre partite consecutive, tutto quello che vogliamo, sono arrivati tre punti, missione compiuta, si può guardare questo e non pensare ad altro, però si può anche cercare invece di tentare di costruire qualcosa di un pochino più robusto per un campionato ancora così lungo. La fascia sinistra con Tito quando è entrato e Cicerelli che giocava da quella parte nel finale di gara è stato un po' finalmente vedere del vero calcio. Cicerelli che ha messo in mezzo palloni, davanti Donnarumma ha sostituito meglio la versione con Curcio sicuramente rispetto che quella con Donnarumma, il calcio di rigore arrivato nei minuti di recupero e che nasce da una gestione orribile del tremendo arbitro Ramondino che non concede il cambio ai giocatori del testo rilevante e fa giocare questa azione con due giocatori pronti ad entrare in superiorità numerica, la Terrana è bravissima ad approfittarne, sfruttando la fascia con un bel passaggio di Cicerelli per Tito, un bel cross di Tito, si commenta da solo quello che Patanè è riuscito a fare su questo cross perché con la palla a un centimetro non l'ha messa in rete, però Cianci che si guadagna il calcio di rigore e Cicerelli poi che è bravissimo a trasformare Cicerelli in questo momento è nettamente l'uomo in più per questa Terrana, quello che copre anche tutte le magagne che ci possano essere, la manovra è stata lenta, è stata veramente una brutta partita, può capitare, però se dalla brutta partita esci con tre punti i segnali continuano a restare positivi, io tutta questa tigre, le cose di cui parla il mister l'ho vista soltanto dall'ottantaquattresimo, quando la squadra è stata messa in campo finalmente si è trovata a giocare con un modulo un pochino più coerente, ripeto il bel calcio va bene, conta fino a un certo punto perché è una categoria difficile dal quale soprattutto cercherò di venirne fuori è molto molto complicato. Comunque Terrana ora è seconda con 23 punti, la sesta e sesta rilevante è sedicesimo con 10 e avrà il derby con Lentella nel weekend, Terrana invece è partita con la spalla e poi trasferta derby sul campo del Perugia, Terrana ha un calendario nelle prossime, nelle partite, sette partite che mancano alla fine del girone d'andata nella quale giocherà con molte delle squadre negli ultimi posti della classifica che Terrana ha affrontato fino ad ora quasi tutte le squadre, spieghiamo Lentella e la sorprendente pianese che ottava per il resto ha giocato contro tutte le squadre messe nella parte alta della classifica, ora affronterà invece anche le squadre un po' più indietro e sicuramente saranno partite difficili, saranno partite contro squadre molto coperte, contro squadre che magari rinunceranno ad attaccare per cercare di portare a casa il punto, ecco qualche piano B, qualche alternativa probabilmente a questo punto sarebbe meglio cominciare veramente a inserirla e io spero che questo vedere sulle fasce quello che succede, vedere Tito che spero che a questo punto possa anche essere pronto per ritornare titolare, vedere quello che può capitare quando dalle fasce si fanno confluire palloni verso il centro, prima o poi possa fare piacere anche al mister e far sì che la squadra lo riesca a fare in maniera un pochino più continua. Comunque alla fine i tre punti sono arrivati, peccato per i sessi levante francamente che penso il pareggio alla fine lo avrebbe anche meritato, la terra ha giocato bene negli ultimi 13 minuti di gioco dal 84esimo al 97esimo, per il resto invece una prestazione davvero scialpa, però prestazione scialpa, i punti sono arrivati meglio di così, cosa si può avere? Prima sera della serata Cicerelli, la seconda Tito, la terza Valentini, per quanto riguarda le pagelli, Anacura 6 e mezzo, Valentini 6 e mezzo, Montebugno 6, Primasso 6 e mezzo, Podda 6, Brunet 6 e mezzo, Conti 6, Rosetti 6, Furno 6, Clemenza 6 e mezzo, Pavanello 6, Parravicini 5, anche Parravicini a minuto 70 ha avuto un'occasione clamorosa, quando la terra aveva ancora i tre centrali e Parravicini è riuscito a trovarsi completamente solo al limite dell'area, ma con un debolissimo colpo di testa non è riuscito a impensierire Vannucchi. Vannucchi 6, Donati 5 e mezzo, Maestrelli 5, Maestrelli come sempre anche, a parte degli errori in impostazione, dal punto di vista della difesa poco, perché la cesta di levante ha fatto pochissimo, il giallo che è andato a prendersi andando apposta a sbattere contro il portiere avversario, lo ha trovato veramente ingenuo, poi sempre dentro nelle polemiche, insomma, non sono suo grande tifoso, mi perdonerete. 6 e mezzo Capuano, 6 a Loiacono, 5 e mezzo Martella, 6 a De Boer, 6 a Romeo poi infortunato e sostituito da Aloy, ecco la presenza di Aloy, non l'avevo detto ancora, invece mi è sembrata positiva ed è sicuramente un buon segno e può lasciare sperare di vedere una formazione un po' più armonica nelle prossime gare. 6 e mezzo da Aloy, 7 a Cicerelli, nettamente migliori in campo, 6 e mezzo a Cianci, 5 e mezzo a Donnarumma, positivo Curcio, 7 a Tito, bravo, Patanè, mamma mia, anche se qualche iniziativa interessante l'aveva fatta, però anche stavolta sottoporta, dimostrato di non avere proprio la freddezza necessaria. Dabatte il voto è 5, perché a mio avviso in questo caso non ha aiutato la squadra a fare meglio, poi però le sostituzioni sono state corrette. All'arbitro abbiamo già parlato, il voto è 4, grazie ragazzi, sono molto 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 curioso di sentire le vostre opinioni. Ok, ripeto, capisco poi da tifosi più bello di vincere nel recupero una gara sofferta come questa non ce n'è, però credo che sia normale poter pensare con una squadra del genere che qualcosa in più si possa fare, credo che su questo saremo d'accordo. Grazie ragazzi, tutti qui per il prossimo turno, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao e un bacio da Rox.